Stoccarda Dinamo 0 a 0, facciamo vedere soltanto l'immagine, quella del gol annullato a Hansi Müller, lo stoccarda della squadra che ha eliminato il Torino, l'incontro è finito 0 a 0, l'andata 1 a 1 per i gol segnati fuori casa, si qualifica lo stoccarda, rivediamo il gol annullato per fuorigioco di Hansi Müller dall'inglese.